Maria dall'Italia e il giudice Abdel Wahab Ali Amira dagli Emirati Arabi Uniti. E in campo abbiamo anche il nostro Master Ring, il nostro chef de peace di questo concorso, il signor Gabriele Gallo. E adesso passiamo alla presentazione della Commissione Disciplinare dall'Italia, il signor Roberto Ceccaroni, Eric, Ceccaroni. Roberto, welcome, ladies and gentlemen, we also like to welcome from Italy, Dr. Robianzi Fabrizio. Altro membro della nostra Commissione Disciplinare, il nostro medico veterinario, il dottor Fabrizio Bianchi. We also like to welcome from Italy, Alessandro Marino. E abbiamo il debutto, posso dirlo con un grande applauso da parte del nostro pubblico, per il neo DC nazionale, Alessandro Marino. E abbiamo come assistente DC la signorina Vittoria Pancani dall'Italia. And this is an honor to work with her for a long time. We are here in this scene, ladies and gentlemen, Laura Mascaglia. Con enorme piacere, vi ho l'onore di parlare e di lavorare con la voce di tutti gli show di Cavalli Arabi, signori e signori Eric Black. The best, the best. Ok, augurando un buon lavoro alla nostra giuria, attendiamo i nostri cavalli nel pre-ring. So, we like to ask to everybody to take their places here in the arena and around the arena. And we are waiting for the sign that the horses for the first class are ready. The catalog numbers one till five, the Yerling Phillies. The best. The best. The best. The best. The best. The best. Grazie.